buongiorno a tutti anzi buonasera visto che ormai sono quasi le sette terzo video di giornata campionato tedesco quindi proseguono le schedine e bollettine del gigione e quindi adesso siamo al campionato tedesco che giocano sabato alle 15 e 30 poi ci sono anche due partite domenica quindi andiamo a vedere com'è strutturata la giornata tenendo conto che a breve partirà la partita del venerdì ci sono quattro partite le ho già fatte quello che sarà sarà c'è anche Benevento Torino tra le altre cose quattro partite una del campionato spagnolo uno del campionato francese uno del campionato tedesco e uno del campionato italiano l'inglese giocheranno come vi ho già detto martedì e c'è solo una partita al sabato comunque partiamo subito con la schedina del campionato tedesco Bayer Leverkusen Bosburg 1x Bielefeld Eintra Francoforte x2 per i più coraggiosi 2 Friburgo Stoccard 1-2 Mainz Lipsia 2 Augsburg Union Berlino x2 Erta Werder Brema 1x Schalke 04 Bayer Monaco 2 Offena in Colonia 1x per i più coraggiosi 1 Veniamo alla schedina alternativa Bayer Leverkusen Bosburg over 1,5 Bielefeld Eintra Francoforte gol Ricordiamo che il Bielefeld gli ha sparato tre pere allo Stoccard la settimana scorsa ma è stata una partita vedendo anche gli highlight molto roccambolesca Friburgo Stoccard over 2,5 Mainz Lipsia gol Augsburg Union Berlino over 1,5 Erta Werder Brema over 1,5 Schalke 04 Bayer Monaco over 2,5 Offena in Colonia over 1,5 Detto questo andiamo a vedere il Gigione cosa ha combinato con le sue belle bollettine o bollette che dir si voglia allora ho scelto un po' di partite molto molto miste perché praticamente abbiamo una partita della domenica anzi teoricamente andiamo a vedere si sono veramente le ho mischiate letteralmente tra il 23 e il 24 il 23 e il 24 tra sabato e domenica perché ne abbiamo tre di sabato e una di domenica ecco per intenderci quindi partiamo subito con Armenia Eintracht 2 Mainz Lipsia 2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Bosburg 1 E Offena in Colonia 1 Con 5 euro se ne vincono 45,97 Diciamo che soprattutto per quanto riguarda Bayer Leverkusen Bosburg l'uno secco è bello rischioso Le altre ci possono anche stare Bayer Leverkusen Bosburg ma anche comunque Ma più che più che altro è quella lì che mi preoccupa perché poi le altre c'è una certa differenza di classifica Poi tutto può succedere attenzione sempre all'Arminia vi dicevo tre pera lo stoccarla ma Diciamo che è un risultato che gli è andata veramente largo da libidine proprio Quando tutto ti va bene agli altri gli va tutto male Veniamo alla bollettina numero due Armenia Eintracht Multigol ospite 1-3 Mainz Lipsia Multigol ospite 2-4 Questa è un po' a rischiatella Bayer Leverkusen Bosburg Multigol casa 1-3 Offena in Colonia Multigol casa 2-4 Anche questa è un po' a rischiatella Se non siete convinti andate sull'1-3 su tutte le partite Però io la provo così Con 5 euro se ne vincono 23,22 Mi sembrava anche una quota interessante Veniamo alla terza bollettina Armenia Eintracht is 2 più over Mainz Lipsia is 2 più over Bayer Leverkusen Bosburg 1x più over Offena in Colonia 1x più over Con 5 euro se ne vincono 21,68 Vi do solo una piccola alternativa Perché francamente preferisco lasciare le doppie Con l'over Ci può stare che si può eliminare E lidere qualche doppia Però come si suol dire Mi puzza E allora stiamo schisci Come si suol dire Quindi Armenia Eintracht is 2 più over Mainz Lipsia 2 più over Bayer Leverkusen Bosburg 1x più over Offena in Colonia 1x più over Con 5 euro se ne vincono 26,46 Siamo a 5 volte la posta abbondante Io la lascerei così Poi se volete fare dei cambiamenti voi E a vostra discrezione Naturalmente sapete che poi la quota si alza in maniera esponenziale Veniamo alla quarta bollettina che mi fa libidine Armenia Eintracht Gol casa Mainz Lipsia Gol casa Bayer Leverkusen Bosburg Gol ospite Offena in Colonia Gol ospite Con 5 euro se ne vincono 20,32 Quinta bollettina E qua Purtroppo Mi tocca ancora fare limitazione Allora l'ultima volta ho fatto Pozzetto Facciamo un bel abbatantono Dai facciamo un bel perbacco Armenia Eintracht Gol piover Pobacco Mainz Lipsia Gol piover Pobacco Bayer Leverkusen Bosburg Gol piover Pobacco E infine Offena in Colonia Gol piover Pobacco Avrete capito che tutti i gol piover Sono favoriti In qualche caso anche stra favoriti Tenetene conto Comunque con 5 euro se ne vincono 86,73 Se la va la Gagam Come se dice a Milan Veniamo alla sesta bollettina Questa è un attimino più a rischiatella Però non è anche troppo Perché le differenze sono comunque minime Armenia Eintracht due più gol Mainz Lipsia due più gol Bayer Leverkusen Bosburg Uno più gol Offena in Colonia Uno più gol Con 2 euro se ne vincono 241,12 Con 5 euro 602,81 Però c'è da considerare alcune cose Allora Armenia Eintracht Il due più gol non è favorito Ma c'è una differenza di 0,25 Per il no gol Mainz Lipsia Il due più gol Non è favorito Ma c'è una differenza di 0,60 A favore del no gol Quindi due più no gol Bayer Leverkusen Bosburg è abbastanza scontatello Tra virgolette Perché nel calcio Nulla è scontato L'uno più gol E infine offena in Colonia C'è una differenza a favore Dell'uno più no gol Di 0,25 Quindi una cosa abbastanza piccolina Tenetene conto Vedete voi se vale la pena Giocarvi tutto gol Tutto no gol Fare un misto Scegliere una partita Eccetera 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 Sapete benissimo Che nel calcio I bookmaker contano Fino a un certo punto Se visto Dell'infrasettimanale Il campionato spagnolo Doveva essere tutto Da under 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 Hanno segnato Come se piovesse E infatti l'ho presa E ho preso anche Un bel po' di soldi Anche se non l'ho giocata Però chi l'ha giocata Avrebbe vinto Un sacco di soldi Veniamo Comunque Alla bolletta alternativa Vista la situazione Quindi Arminia Eintra Francoforte 2 più 1 gol Mainz Lipsia 2 più 1 gol Bayern Leverkusen Bosburg 1 più gol Quindi resta invariato L'1 più gol E Offene In Colonia 1 più 1 gol Con 2 euro Se ne vincono 163,95 Con 5 euro 409,88 Detto questo Io vi saluto Vi ringrazio Vi ho detto Tutte le varie opzioni Vi dico Una piccola Viste anche le quote Tutto quanto Io sinceramente L'unica partita Che il 2 più gol Ci penserei un attimo A giocarla È proprio Mainz Lipsia Perché non so Se il Mainz Riuscirà a fare gol All'Ipsia Oppure l'Ipsia Riuscirà a fare Più di due gol Ma intanto Il gol Basta uno Quindi Perché qualora Il Mainz Dovesse segnare Non vorrei che Mi finisse 1 a 1 E c'è il 2 Più gol Va bene Va bene col gol Più over Sopra Ma non va bene Lì E forse È l'unica partita Un attimino Da punto Di domanda Le altre È un 50 Arminia Entra Che Mainz Colonia Un 50 50 Tra gol Tenendo conto Che il campionato tedesco È un campionato Che i gol Pullulano Solitamente Ultimamente No Ultimamente Stanno facendo Il braccino corto Anche loro Non ci sono Quasi mai 0 a 0 Però ci sono Spesso Degli 1 a 0 E degli 1 a 1 Quindi L'over 2 e mezzo Che di solito Era spesso Scontato In quasi tutte le partite Lo è un attimino Meno E lo è di più L'over 1 e mezzo L'under 3 e mezzo Però Ogni partita Fa storia a sé Ogni partita Non vuol dire nulla Quello che ti dicono I bookmakers Dovete andare Come dico sempre Di pancia Se state lì a studiare Allora quella squadra Lì è una squadra Che segna sempre Eccetera eccetera La volta che la giocate Perché dite Questa segna sempre Fa 0 a 0 Bisogna andare Distinto E vedere anche le quote Oltre alle formazioni Eccetera eccetera Se ci sono defezioni E quant'altro Quindi Vedete un attimino voi Io vi ho dato Le 6 solite bollette Di partenza Vi ho dato Qualche drittina Qualche mio piccolo parere Per quello che può servire E ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao